Il 2016 per la protezione civile di Prato è stato un anno caratterizzato da numerosi interventi, ma nessuno di grave entità. 76 quelli di allerta meteo, 40 per ricercare persone scomparse. La protezione civile è un sistema prima di tutto, un sistema che comprende proprio in quanto sistema l'attivazione di un sacco di componenti, da quelli istituzionali a una delle più importanti, forse la più importante a livello numerico, è quella del volontariato. La protezione civile che si attiva ovviamente, come sappiamo, in Prato, per quanto riguarda il nostro territorio, tutte le volte che c'è o una previsione o, a maggior ragione, un evento in corso, ordinariamente di carattere meteorologico, ma purtroppo non solo, la protezione civile che si attiva all'interno di un sistema molto più ampio che quello regionale prima e nazionale dopo, e quindi partecipa in pieno a tutte quelle che sono le attivazioni interessate dall'evento. Oltre all'attività di intervento, di formazione e informazione sul territorio, la protezione civile pratese ha giocato un ruolo attivo nell'emergenza terremoto. Il sistema si è contraddistinto soprattutto per l'attività di aiuto al sistema di protezione civile nazionale, con un aiuto concreto fatto di persone che sono andate direttamente giù, nei luoghi colpiti dal terremoto, e hanno aiutato sia a montare e a gestire i campi di accoglienza, sia ad aiutare tramite funzionari del comune, un comune del posto che è Acqua Santa, con un'attività amministrativa e tecnica fondamentale in questo momento per le zone colpite. Intanto sono stati raccolte tramite il Comitato Pro Emergenze 180.000 euro, che verranno utilizzati per l'acquisto di un mezzo 4x4 destinato alla Polizia Municipale di Acqua Santa.